Mancano tre gare alla fine del Mondiale MotoGP e la gara che si è corsa oggi il Gran Premio d'Europa a Valencia probabilmente ha già messo una serie ipoteca sul titolo 2020 perché è successo qualcosa di storico a tratti irreparabili ovvero la prima vittoria in carriera di Juan Mir su Suzuki che si toglie dunque questa scimmia dalle spalle clamorosa del possibile vincitore del titolo 2020 senza mai aver vinto una gara. Il pilota spagnolo della Suzuki riesce ad arrivare primo al traguardo avendola meglio sul compagno di squadra Alex Rins e su Polizia Spargaro dunque ancora una volta in MotoGP si torna a parlare di tripletta spagnola Valencia andrà a ospitare due gare consecutive oggi si è corso il Gran Premio d'Europa settimana prossima invece si correrà il tradizionale oramai appuntamento di metà novembre ovvero il Gran Premio di Valencia in senso stretto. Ma è giusto celebrare questo ragazzo è giusto celebrare Juan Mir che dunque vince per la prima volta ovviamente in MotoGP alla sua seconda stagione alla sua prima stagione in realtà a tempo pieno Juan Mir è arrivato l'anno scorso era un pilota promettente e lo è tuttora in realtà è un campione del mondo perché Mir vinse il titolo Moto3 su Leopard qualche anno fa. Ha fatto solo un anno di Moto2 e poi l'anno scorso è arrivato in MotoGP facendo in realtà una stagione alterna perché si è infortunato parecchie volte. Dopo quest'anno senza Mark Marquez e con un equilibrio di fondo abbastanza generale in queste ultime gare sembra che la Suzuki sia evidentemente la moto migliore in pista e il risultato di oggi in realtà nella dimostrazione e in particolare Mir sembra aver trovato la quadra di questo stranissimo campionato 2020. È una gara che Mir ha vinto in realtà a 10 giri dalla fine in quanto il suo campione di squadra Alex Rins che era primo in una curva verso sinistra nella rientranza Valencia anzi in realtà è un tornantino verso destra. Si è allargato un attimo di trattoria non si capisce se è stato fatto passare Mir o ha sbagliato in realtà Rins è fatto sta che da quel momento in poi Mir è passato davanti al suo campione di squadra e non è mai più genuto la leadership fino al traguardo e dunque per il pilota spagnolo in MotoGP suona la marcia reale per la prima volta in questa stagione. In realtà la marcia reale ovvero lino nazionale spagnolo suona per tutti e tre i piloti sul podio perché come vediamo qui Mir e Rins fanno primo e secondo doppiettivi Suzuki qualcosa di clamoroso in questa MotoGP e terzo un altro spagnolo Pulisio Spargarò che torna appunto sul podio dopo qualche gara che l'abbiamo visto nell'anonimato con qualche picco appunto sul podio con la KTM ufficiale. È un podio che racconta tanto nel senso che appunto vediamo che la prima moto in pista è la Suzuki Kia dispetto magari di altre case che hanno fatto molta fatica, Yamaha, educati su tutti KTM in generale è la seconda moto in pista perché comunque la casa austriaca ne piazza tre facile nei dieci considerato che in questa gara non c'era Iker Lecuona che ha saltato la gara positivo al covid il pilota spagnolo lo rivedremo comunque settimana prossima nella gara della comunità valenziana. Tutto questo per dire che in questa gara Mir ha effettivamente legittimato quello che sarà un probabile titolo del mondo 2020 che con la matematica in realtà verrà probabilmente chiuso a Valencia diciamo che se c'erano dei dubbi su chi potesse essere il titolo questa vittoria del pilota spagnolo il numero 36 va a come dire ipotecarla no? Questo è l'ultimo chiodo della bara per questo mondiale 2020 e dunque celebreremo un altro titolo di un pilota molto giovane perché Mir è effettivamente un pilota ancora in divenire un pilota in crescita e già arrivare dopo quattro anni a vincere un titolo Moto3 e un titolo MotoGP insomma è veramente tanta roba per quello che sta guidando al momento il pacchetto da battere ovviamente in confidenza di Mark Marquez che tornerà verosimilmente nella prossima stagione. Per quanto riguarda gli altri piazzamenti e ci concentriamo adesso sulla grafica di Wikipedia d'inglese come al solito abbiamo dei nomi interessanti in particolare il solito Takaki Nakagami quarto ai piedi del podio quinta posizione per Miguel Oliveira segno che comunque la KTM Tech 3 sta crescendo in particolare con il portoghese che l'anno prossimo sarà in KTM ufficiale. Sesta posizione per Jack Miller che alla fine risulta essere la migliore delle Ducati una delle due deluse di questo Gran Premio d'Europa. Settima posizione per Brad Binder con la terza KTM nei dieci tra l'altro Brad Binder fa il giro veloce di questa competizione. Ottavo posto per Andrea Dovizioso che ancora una volta fa una gara in difesa ma ovviamente è in disarmo e fa quello che può. Non a posizione per Johan Sarko che in prova in qualificazione è la migliore delle Ducati nell'anonimato delle altre e poi fa comunque una buona top 10 completata da Danilo Petrucci che in ogni caso fa risultare in questa gara la moto Ducati la terza in pista ed è un po' evidentemente la gerarchia di questa MotoGP 2020 con qualche sprazzo di Honda con qualche sprazzo di Yamaha che in realtà oggi ha fatto veramente pietà perché tutte le moto della caratteristica sono finite assolutamente after the music. La classifica con la vittoria di Mir vede appunto il piatto spagnolo a 162 punti addirittura con una enormità di punti di vantaggio su Rins e Quartararo e attenzione perché non solo la Suzuki ha fatto doppietta in gara qui a Valencia ma potrebbe fare doppietta addirittura nel campionato del mondo considerato che Quartararo è da Catalunia che non si sta capendo veramente una mazza in questo Mondiale 2020 e per una struttura che ha soltanto due moto a disposizione è veramente un qualcosa di straordinario e incredibile. Le deluse di questa gara di Valencia sono in ogni caso Tukati e Yamaha in particolare la Yamaha che non ne piazza uno neanche per sbaglio nei 10 Quartararo si stende al primo giro e in qualche modo raccimola due punti finendo 14esimo Vignale si è partito ultimo per aver finito i motori e la Dorne ha deciso di far partire ultimo per questa penalizzazione il pilota spagnolo Morbidelli ha fatto una scelta di gomme abbastanza particolare con doppia dura per provare a far qualcosa di diverso rispetto alle Suzuki e non ha pagato infatti Morbidelli ha finito anche lui After The Music Valentino Rossi con la ultima Yamaha di queste quattro di fatto la gara non la corsa perché si è ritirato presto e non l'abbiamo praticamente mai visto in ogni caso è una Yamaha che evidentemente si lecca le ferite ed è una Yamaha che probabilmente avrà di che rimpiange a termini di questo Mondiale perché evidentemente vedendo come erano partiti sembravano loro i piloti da battere e le moto da battere cosa che invece non è successa evidentemente la Suzuki ha trovato la quadra in particolare Mir ha avuto una stagione e ha una stagione veramente pazzesca è incredibile dunque verosimilmente settimana prossima celebreremo il titolo del mondo del numero 36 parenti sugli altri italiani di Dovizioso abbiamo detto ottavo Morbidelli ha fatto undicesimo appunto per la scelta delle gomme Valentino Rossi l'abbiamo detto non ha fatto neanche la gara c'è stato l'esordio di Lorenzo Salvadori pilota storico della Superbike sempre con Aprilia quando c'era ha esordito in MotoGP era a punti in questa gara di Valencia che è stata di fatto un'ecatombe in realtà per tutti alla fine anche Salvadori si è ritirato e lo rivedremo anche lui sia a Valencia sia a Portimao nella chiusura del Mondiale c'è un'altra parentesi da aprire quella del pilota statunitense Garrett Gerloff che viene dalla Superbike di quest'anno è un pilota molto promettente che l'anno prossimo sarà ancora in Superbike ma che ha sostituito Valentino Rossi nelle prove libere di questa gara di Valencia perché appunto come sapete Valentino Rossi ha contratto il Covid ha saltato due gare e è stato diciamo risultato idoneo a correre in pista soltanto al sabato mattina al venerdì c'era bisogno di un terzo pilota e allora visto che quelli della Superbike Yamaha sono liberi hanno chiamato Garrett Gerloff che è un pilota molto interessante e ne risentiamo parlare ovviamente l'anno prossimo il rider del giorno evidentemente è Juan Mir perché appunto come dicevo in presentazione di questo video vincendo questa gara e di fatto andando a legittimare il titolo del mondo festeggeremo il primo titolo del mondo della Suzuki dopo tempo in memory se non sbaglio il ultimo titolo della Suzuki fu nel 2000 con Kenny Roberts Junior ma quello che conta è appunto che Mir non aveva ancora mai vinto una competizione in questa gara e non mi ricordo in MotoGP un pilota che abbia mai vinto un mondiale senza aver vinto una gara questa vittoria del GP d'Europa legittima la posizione di leader di Mir e verosimilmente per la matematica si chiuderà settimana prossima nel tradizionale appuntamento della comunità valensiana e poi passerella per tutti a Portimao tra due settimane se il mondiale MotoGP sembra evidentemente chiuso in favore di Mir e della Suzuki ed è una cosa molto positiva questa soprattutto per la Suzuki che è una casa molto diversa rispetto alle solite che siamo tentati a sentire in MotoGP quelli di Moto2 e Moto3 come mondiali sono invece riaperti e in modo abbastanza incredibile perché nella gara di Valencia Moto2 Sam Lowe si è il leader del mondiale fino a poco fa si stende per un errore in curva 6 ma stiamo inseguendo il vincitore della gara ovvero Marco Bezzecchi e dunque il nuovo leader del mondiale torna a essere il mio idolo il bestia di Rimini Enea Bastianini che è stato annunciato tra l'altro in modo GP per l'anno prossimo insieme a Luca Marini il fratellastro vi ricordo di Valentino Rossi è un mondiale a questo punto verosimilmente riaperto ci sono tre contendenti ancora per la matematica Bezzecchi ha 29 punti di svantaggio rispetto a Bastianini ed è quello messo peggio come matematica ma chissà che nella prossima gara non ci possa essere un altro ribaltone l'Ous era il pilota più in forma e questo errore diciamo lo fa tornare sulla terra Bastianini è un pilota costante e se la gioca veramente con il pilota inglese è un mondiale veramente pazzesco ci sono veramente tre piloti in corsa fino ai 19 punti di Luca Marini sono tutti in leadership per il mondiale il podio lo completano Marco Bezzecchi appunto vincitore di Valencia gara 1 e per lui suona Fratelli d'Italia il nostro rino nazionale seconda posizione per Jorge Martin su KTM anche lui andrà in MotoGP l'anno prossimo Ducati Pramac per lui Remy Garner fa terzo ed è il terzo podio stagionale per il pilota australiano diciamo che dei primi 4 in Moto2 andranno in MotoGP anzi dei primi 5 in Moto2 andranno in MotoGP appunto in 3 ovvero Bastianini e Marini l'anno prossimo in Ducati ma team Avinzia mentre Martin andrà in Ducati ma team Pramac lo stesso di fatto di Miller e Bagnaia attualmente in MotoGP è un mondiale Moto2 veramente aperto io mi espongo e tifo spudolatamente per il best di Rimini e Nea Bastianini che è un pilota che mi è sempre piaciuto tantissimo fin dai tempi della Moto3 Bastianini è sempre stato un pilota molto costante più piazzato che vincente ma come dico sempre nei mondiali motoristici la costanza la fa da padrone se non c'è un vero e proprio dominatore come magari in altre categorie speriamo che il bestia possa portare a casa questo titolo del mondo mondiale che per gli italiani sia complicato considerata la doppia caduta di Aragon di Marini e Bezzechi che erano inizialmente i più probabilmente probabili pretendenti al titolo del mondo Moto2 titolo del mondo Moto2 che dunque avrà la sua conclusione a Valencia e Portimao così come la Moto3 una Moto3 che anche qui si è riaperta la cosa evidente è vedere questo quadratino nero sulla casella di Albert Arenas squalificato per bandiera nera Albert Arenas ha avuto in realtà molta sfortuna perché nel primo giro di gara è stato un incidente tra Celestino Vietti Ramos del Team Sky VR46 e Alonso Lopez Alonso Lopez nella caduta tampona Arenas che deve rientrare ai box sistemare la moto e ripartire di conseguenza Arenas accumula un ritardo della Madonna sarà in ritardo di 5 giri se non sbaglio il problema è che anziché lasciar passare gli altri come doppiato va a interferire con la corsa dei piloti di testa facendo delle manovre un po' ai limiti se non fosse un doppiato ovviamente e andando quasi a compromettere la gara del gruppo di testa cercando di rovinargli la festa cosa che appunto non è concessa e quindi giustamente i commissari di gara gli hanno dato la bandiera nera in una gara che dopo quella caduta del primo giro ha visto un dominatore assoluto ovvero Raul Fernandes un pilota veramente talentuosissimo che in realtà è sbocciato un po' tardi io mi aspettavo che fosse su questi livelli già in anni precedenti e in tempi passati la prima vittoria in Moto3 arriva nel Gran Premio d'Europa per lui suona la marcia reale l'inno nazionale spagnolo seconda posizione per un altro spagnolo ovvero Sergio Garcia con la Honda di Estrella Galicia che è un team che abbandonerà la Moto3 insieme allo Sky Racing Team VR46 terza posizione per Ayogura che con questo podio si riavvicina incredibilmente alla testa della corsa un pilota che probabilmente fino al Gran Premio del Terruel sembrava escluso e Arbolino e Celestino Vieti sembravano invece i più lanciati e invece Ogura fa podio e ha soli tre punti di distacco da Alberta Reynas che ne ha 20 di vantaggio su Vieti e 23 su Arbolino sono loro i pretendenti a questo campionato del mondo con due gare dalla fine tutto ancora in gioco e vedremo chi la spunterà sperando che vinca il migliore tra questi quattro Arenas è indubbiamente in posa da battere è ancora secondo me il favorito ma attenzione perché la Moto3 è un campionato veramente pazzo come abbiamo imparato a conoscere in questi anni e dunque ci concentreremo nei prossimi recent podcast ovviamente sul titolo della MotoGP che verosimilmente andrà a mira meno di ribaltoni e su chi sarà il campionato del mondo Moto3 e Moto2 in questa stagione 2020 connessata come sapete dalla pandemia mondiale in ogni caso vi lascio con la classifica del mondiale MotoGP e con il podio tripletta spagnola in MotoGP con Mir vincitore per la prima volta di carriera fatemi vedere cosa ne pensate di questo resto del podcast ti saluto da parte di Meteo Torger ci vediamo settimana prossima sempre domenica per parlare invece della Formula 1 campionato di Turchia che ha le ultime gare in programma e che potrebbe anche risegnare il titolo del mondo 2020 2020 2020